Sul tiro del centrocampista rossonero, Vieri tentava la presa aerea, ma la palla gli sfuggiva dalle mani rotolando in rete. Comprensibile il gesto di stizza dello stesso Vieri per questo errore. Gol del pareggio firmato da Boninsegna su lancio di corso. Di questo gol si parlerà forse a lungo, poiché rimane incomprensibile l'atteggiamento di Cudicini, avventuratosi in uscita nonostante la presenza di due suoi compagni nei pressi di Boninsegna. Grazie.